ciao a tutti lettori lettrici oggi bookshelf tour me l'avete chiesto tante volte l'avevo fatto in passato ma è da un po in effetti che non vi faccio vedere gli aggiornamenti della libreria questa è la mia libreria per esteso cioè tutta intera più quest'altro pezzettino qui che in realtà è ancora un po vuotino anche nei ripiani sotto insomma non è proprio piena perché è arrivata da poco ve la mostrerò abbastanza così velocemente passando attraverso gli scaffali perché comunque sarà un percorso lungo non mi soffermo molto sui vari titoli se c'è qualche libro di cui vi interessa sapere qualcosa nello specifico ne possiamo parlare sotto nei commenti sono organizzati per casa editrice tranne alcuni scaffali che invece organizzo per tema procediamo quindi da qua abbiamo lezioni di letteratura di nabokov le lettere di samuel beckett di cui ho solo il primo volume dovrei recuperare gli altri un saggio sul transumanesimo di marco connell essere una macchina vista con granello di sabbia raccolta di poesie di wislao asimborska notturno cileno di bolagno grandissimo scrittore sudamericano l'avversario di carrer libro che non mi ha fatto dormire la notte per un po di tempo gli undici di michon tutto quello che un uomo di david zalei questo è un volume molto interessante racconta le vite di vari uomini di età diverse di provenienze geografiche diverse fa un po una disamina di quello che appunto la vita di un uomo molto bello anche per un ritratto dello scrittore da giovane di shasha questo libro è una raccolta di articoli e di saggi scritti appunto da leonardo shasha sulla letteratura sugli scrittori invito a una decapitazione di nabokov che ne ho parlato di recente peter cameron cose che succedono la notte questo non l'ho letto perché di mio marito non è mio balzac e la piccola sarta cinese neanche questo l'ho letto mi è arrivato il regalo ma mi manca e mi manca da leggere anche la storia di un matrimonio di greer altro libro che ho ricevuto in regalo particolare invece la cattiva strada la storia di un amore proibito fra una suora e un adolescente ve ne ho parlato quest'anno la vita altrove di kundera kundera è uno degli autori che io amo maggiormente qui abbiamo da sotto schneider lasciami andare madre un libro assolutamente necessario si parla di holocausto bennett con la sovrana lettrice certo che questi due vicini proprio cozzano che non si può capire visto che qua parliamo di un tema fortissimo mentre la sovrana lettrice è un libro comunque abbastanza divertente il soccombente di bernard le bracci di marai molto elegante così come molto elegante anche se se ne parla poco fuga senza fine di roth che è joseph roth non philip magrath con follia mi era piaciuto tanto le finzioni di borges irene miroschi altra autrice del mio cuore ho diversi libri suoi in casa questo è il vino della solitudine di cui vi ho parlato in un video dedicato proprio a lei lo trovate sul canale la pan di di un remata anche questo è di mio marito ma lo dovrei recuperare pure io perché insomma dice che è molto bello commedia di balser questa è un questo un testo una raccolta di testi teatrali è un adattamento in chiave contemporanea di alcune fiabe tradizionali l'affermoro di sciascia ancora nei miroschi con il ballo bellissimo se non avete mai letto niente della nemiroschi cominciate assolutamente con il ballo lamite di dostoevsky un classico breve meno noto rispetto agli altri ma da recuperare perché intensissimo di grandissima qualità signorina else di schnitzla di che stiamo parlando sono tutti uno più bello dell'altro questi è sempre di wislava zimborska mora prima vista una raccolta di poesie che io adoro personalmente sono poesie sull'amore veramente belle e infine lorenz e l'uomo incontrò il cane dell'autore dell'anello di re salomone padre fondatore delle della scienza che studia il comportamento e qui leggere l'olita teran grande testo di riferimento per movimenti di emancipazione femminile un libro insomma che dovrebbero leggere un po tutti e poi sempre zimborska con la gioia di scrivere una raccolta delle sue poesie più belle il tau della fisica questo è un saggio che io vi ho inserito all'interno dei miei dieci libri da leggere assolutamente nella vita definizione da prendere con le pinze perché poi ognuno stila la lista che preferisce e la fa evolvere come preferisce nel corso della vita l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello questo è un testo famoso di psicologia forse psichiatria più che altro sono dei casi clinici flatlandia di abbott altro libro molto molto famoso citati la morte della farfalla questo parla della vita di fitzgerald scott e zelda chiaramente l'olita di nabokov il vagabondo delle stelle di london questo voglio assolutamente riprenderlo perché non me lo ricordo praticamente più un giorno questo dolore ti sarà utile di peter cameron un libro controverso a tanti è piaciuto a tanti no io sinceramente l'ho apprezzato l'insostenibile leggerezza dell'essere di kundera che io amo alla follia questo libro l'ho letto e riletto e ascoltato tantissime volte e qui per finire c'è un libro di un'altra casa editrice però l'ho messo qua perché è sempre di renne miroschi ed è la nemica parla del rapporto fra lei e la madre cioè fra una ragazza e una madre è un tema caro all'autrice e poi quest'altro che così mi hanno regalato tanto per ridere l'oracolo manuale per scrittrice scrittori di giulio mozzi da qualche suggerimento per agli scrittori in panne quando ci si blocca ma in realtà vi devo dire che non l'ho consultato praticamente mai scendiamo al ripiano sotto qui abbiamo alcune case editrici non soltanto una come sopra dove c'erano gli adelfi qui iperborea li ho messi tutti uno uno sopra l'altro da qui cominciamo questo è l'unico iperborea che ho in casa che non ho ancora letto il pozzo ve l'ho fatto vedere tante volte mi riprometto di leggerlo appena avrò un po di concentrazione ma in realtà evidentemente non è ancora arrivato il suo momento perché continua a tergiversare gli uccelli di vesas un classico della letteratura scandinava bellissimo recuperatelo se non l'avete letto si parla di disabilità in un modo molto delicato molto toccante bellissima anche questa distopia all'uomo che voleva essere colpevole ambientato in una società nella quale non si può percepire il senso della colpevolezza e tutti i reati vengono perdonati rapidamente l'isola del di jacobsen poi l'ora di agate di bohman qui si parla di psicanalisi bellissimo anche 1947 di elisabeth as brink questo è un libro che raccoglie una serie di eventi che hanno caratterizzato l'anno 1947 che si intrecciano fra loro dagli eventi storici più importanti ad aneddoti apparentemente meno rilevanti ma che poi costituiscono in realtà il tessuto vitale della storia vera e propria io non mi chiamo miriam si parla di olocausto ma in questo caso si parla di olocausto in generale ma nello specifico si parla della deportazione degli zingari di cui di solito si accenna un po meno nella letteratura copiosa sull'argomento la vita perfetta di william sidis la storia della vita di questo ragazzo prodigio professione angelo custode di pasilina se volete farvi due risate alla maniera finlandese recuperate pasilina pellegrino del mare di stig dagerman il nostro bisogno di consolazione questo è un libro con delle massime filosofiche fondamentali la notte di natale di selma lagerlof vincitrice del premio nobel una raccolta di storie che hanno a che fare con la tradizione cristologica ma rinarrata in una maniera abbastanza folcloristica dal punto di vista della della lagerlof molto bello così come una bella sorpresa è stato leggere l'imperatore di portugalia sempre suo e l'ultimo l'ho messo qui perché ha un formato un po diverso rispetto agli altri per borea ed è la via del bosco di long lituan autrice di origini malesi se non mi sbaglio di o malesi o indonesiane non mi sto ricordando esattamente comunque lei dopo aver subito un lutto molto forte la perdita del marito a cui era profondamente legata riscopre l'amore per la vita attraverso i funghi la ricerca dei funghi comincia a far parte di questo gruppo e riesce a recuperare attraverso questa nuova passione è un libro di grande ispirazione io lo consiglierei a chi sta elaborando un lutto ancora passiamo avanti con nn editore di cui non ho moltissimo veramente anche se è una casa editrice che mi piace qui c'è il cofanetto di kent aruf con canto della pianura benedizione crepuscolo mi manca le nostre anime di notte che vorrei assolutamente recuperare l'ho letto in ebook e poi non l'ho più comprato ma lo vorrei perché devo dire che fra i libri che ho letto di kent aruf è quello che mi ha toccata di più mi ha commossa animali in salvo di margaret malone una bella raccolta di racconti catherine di rupert thompson uno dei libri più belli che ho letto quest'anno molto coinvolgente per me ve lo consiglio le cose che restano di jenny hoffil e le ossa di san lorenzo di vicente alfonso letto alcuni anni fa consigliato se vi è piaciuto la trilogia della città di k l'ultimo dnn ma qui è il caso di dire last but not least questo è panorama di tommaso pincio un libro bellissimo che ogni lettore dovrebbe leggere ci sono delle massime sulla lettura sul senso della lettura indimenticabili altro libro che mi ha colpito tanto è sul soffitto di eric che via edito dalla casa editrice del vecchio fra l'altro una copertina particolarissima è un libro che dà molti spunti di riflessione sul modo in cui dovremmo guardare il mondo è un libro a testa sotto non vi dico altro gili una di noi di irm garcheon compagna di joseph rot che vi ho fatto vedere sopra per la delfi questo è uno dei recuperi che ha fatto l'orme editore un bel libro così come dovrebbero essere anche gli altri scritti da lei si parla di emancipazione femminile negli anni 30 in germania qui abbiamo qualcosina della sellerio storie di alberi e bonsai di famra scrittore sudamericano che mi piace molto io l'ho associato un po murakami dio non abita alla vana di jasmina cadra uno dei libri più interessanti che ho letto l'anno scorso fabio stassi l'ultimo ballo di charlotte qui si parla proprio di charlie chaplin e sempre di jasmina cadra l'affronto uscito di recente per sellerio ma mi ha convinto meno rispetto a dio non abita alla vana qui accanto qualcosina guanda molto forte incredibilmente vicino il mio libro preferito di gianna danza framfoer questo di sepulveda il diario di un killer sentimentale è di mio marito non è mio non l'ho letto aramburu con patria bellissimo a me aramburu piace molto come scrittore fra l'altro ho sentito che adesso hanno fatto anche non ho capito se è una serie un film qualunque ispirato a patria e anni lenti di aramburu parla sempre di terrorismo nelle province basche durante l'infanzia di questi personaggi di aroa moreno duran cose che si portano in viaggio qui si parla di una ragazza che vive a berlino negli anni in cui è stato eretto il muro mi è piaciuto molto questo libro e il lettore di bernard schlink qui si parla di nuovo di olocausto qui però abbiamo cambiato casa editrice siamo alla neri pozza per neri pozza accanto tre piani di esco nevo molto bello c'è questo palazzo tre piani ogni piano rappresenta un'istanza freudiana quindi al piano terra c'è l'ess al primo piano l'io e al piano di sopra abita una giudice che rappresenta il superio la scomparsa di joseph mengele questo libro è stato molto discusso alcuni anni fa non è propriamente un romanzo un giorno di david nichols e questa dovrebbe essere una storia d'amore ma questo non l'ho letto e qui ci sono due libri che mi sto tenendo per i momenti in cui ho voglia di queste cose uno un grande classico americano che ad un certo punto mi chiamerà e sarà bellissimo è un albero crash a brooklyn di betty smith mi avete detto in tanti che è veramente un grande libro lo recupererò sicuramente ad un certo punto così come romangari con gli aquiloni che ho voluto prendere perché qui vedete la vita davanti a sé che è uno dei miei romanzi del cuore uno dei miei romanzi più cari qui fra l'altro l'edizione illustrata ce ne sono parecchie e poi accanto ci sono due quadernetti dove prendo degli appunti scendiamo quindi al piano di sotto andiamo direttamente così al piano di sotto qui e qui è il mio altarino di murakami sono solo libri di murakami gli ho dedicato questo spazio se vi ricordate qualche tempo fa vi avevo fatto vedere una disposizione diversa della libreria avevo messo in questo scaffale i libri ancora da leggere ho poi cambiato perché la mia libreria è un po come le scale di hogwarts cambia e quindi ormai i libri da leggere sono tutti sparsi qui ho dedicato lo spazio a murakami sono tutti i suoi libri che ho non li ho ancora tutti comprati ma insomma diversi vento e flipper poi l'assassino del commendatore questo è uno degli ultimi uno q 84 i due libri il primo il secondo e poi il terzo il mestiere dello scrittore questa è una raccolta di riflessioni di murakami sull'arte dello scrivere a sud del confine a ovest del sole super consigliato se volete iniziare qualcosa di murakami non avete mai letto niente uomini senza donna bella raccolta di racconti anche questa adatta per cominciare e poi abbiamo le edizioni singole illustrate per einaudi queste le ho tutte sono uscite nel corso degli anni l'ultima è abbandonare un gatto che parla del suo rapporto con il padre uscita proprio l'anno scorso l'uccello che girava le viti del mondo a cui sono particolarmente affezionata perché questo mattoncino è stato il mio primo murakami ed è quello che ha fatto scattare la scintilla kafka sulla spiaggia ricevuto da poco e non ancora letto so che è uno dei alcuni lo considerano il migliore ma io proprio perché viene considerato così me lo voglio tenere il più a lungo possibile non ho quest'ansia di scoprire cosa c'è dentro voglio tenermelo il più a lungo possibile questo questo questa sorpresa dance dance poi qui abbiamo ancora un'altra raccolta di racconti l'elefante è scomparso e altri racconti l'arte di correre è uno dei miei preferiti in assoluto non è un romanzo ma è una sorta di saggetto in cui lui parla anche della sua attività come maratoneta e del modo in cui l'allenamento lo aiuta poi a scrivere con costanza tutti i figli di dio danzano raccolte di racconti anche questa molto bella la fine del mondo è il paese delle meraviglie questo è uno dei primi romanzi murakami ed è insieme a kafka sulla spiaggia e vento e flipper l'unico di questa fila che io non ho letto norveggian wood di cui si parla tanto ma devo ammettere che è uno di quelli che a me ha convinto meno la ragazza dello sputnik anche questo è molto bello adatto se volete cominciare con murakami l'incolore tazaki tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio qui non c'è il titolo per intero ma è così e poi abbiamo i sali cioè che la donna addormentata anche questa è una raccolta di racconti after dark è l'unico che ho in un'altra edizione perché l'ho recuperato così e poi mi piace molto la copertina anche se è diverso tutti gli altri e poi una chicca vabbè finale non poteva mancare insieme alla tazza e al qui il tempietto recuperato a mia gima c'è questo qui che è uno q 84 il primo libro comprato in giappone in giapponese ovviamente a proposito di giappone al piano di sotto e qui non mi non mi soffermerò più di tanto qui ci sono i miei libri vari libri che uso per studiare per le lingue qui ci sono quelli di qualcosa dell'inglese rimasto qui c'è il francese questo è un dizionario visuale in cinque lingue questo ve lo consiglio tantissimo se volete avere un sussidio per poter ampliare il vocabolario ci sono in pratica tante parole vedete qua l'esempio della copertina ci sono delle delle immagini e accanto ci sono le indicazioni con i nomi però in tante lingue quindi in inglese francese tedesco spagnolo e italiano io poi quando lo spoglio gli aggiungo anche il giapponese poi qui c'è qualcosina di spagnolo e qua tutta la mia giapporoba per studiare giapponese sta tutto qua scenderei direttamente al piano di sotto e allora qui cosa abbiamo qui abbiamo un po di cose in realtà questo è un po lo scaffale dove non sapevo dove mettere è finito tutto insieme allora il rumore dei tuoi passi di valentina d'urbano poi qui abbiamo un paio di cose che ho usato per la scuola le arance d'oro e altre fiabe i cani praticano lo zen e il suo numero aprile di elisa barbaro poi l'autodifesa di caino di camilleri che è sellerio quindi dovrebbe stare al piano di sopra lo dovrei spostare lo farò dopo magari una bella raccolta di racconti edita casa sirio questo si chiama la notte comincia piano surreale strana roba strana vincenzo grasso carmen lui ha scritto questo libro quando era veramente giovanissimo un ragazzo giovanissimo ed è una sorta di libro retelling di lolita comunque molto ispirato a lolita raccolta di racconti di nicola monte calvo montagne dentro di cui vi ho parlato e ve ne ho anche letto uno lo trovate qui sul canale nella sezione dedicata alle audioletture francesca maccani fiori senza destino è un resoconto di un'esperienza scolastica vissuta nel palermitano da una collega appunto francesca maccani madlaine tien non dite che non abbiamo niente edito 66 and second libro saga familiare cinese dalla copertina meravigliosa non c'è che dire ma a me lo stile non ha preso per niente infatti è rimasto il segnalibro lì dove mi sono fermata io ma magari in futuro mi chiamerà di nuovo qui invece abbiamo un po di cose della minimum fax sì e ora c'è tutta una sezione minimum fax allora da qua abbiamo elogio della gentilezza l'egoismo inutile di george saunders librettino ma george saunders piace molto come scrittore e come reportagista ma anche come anche nel suo modo di pensare ecco mi piace molto la sua teoria paolo cognetti una cosa piccola che sta per esplodere se devo dirvela con grande sincerità l'unico libro di paolo cognetti che mi sia piaciuto poi abbiamo di francesco pacifico il caso vittorio che ho recuperato a tipo due euro alle braccio ma non ho ancora letto e non ho letto nemmeno gli inquilini di malamud ma l'ho preso sulla fiducia dopo aver letto di malamud il commesso che mi era piaciuto veramente tantissimo magari provo a uscirli un po ecco perché c'è un po buio vediamo se va meglio vogliamo fare così qui la guerra dei mondi di wells ve ne ho parlato vi ho fatto anche un classic call dedicato biancaneve di donald barthelm questo è un retelling di biancaneve in chiave post moderna simpaticissimo bello e poi c'è il mio amato richard yates con easter parade che continua ad essere probabilmente il mio preferito i racconti 11 solitudini poi una buona scuola anche questo è molto bello mi dispiace per i titoli si vedono una schifezza perché le copertine minimum facts di questa serie si spaccano tutte ma a me piacciono proprio perché si spaccano e disturbo della quiete pubblica questi sono tutti di yates insieme ad un altro che vedrete fra poco e fra tutti quello che mi è piaciuto meno è disturbo della quiete pubblica poi l'opera galleggiante di john barth esempio del post moderno americano molto bello molto particolare forse poco discusso io ve lo consiglio e anche sua la vita è un'altra storia e la fine della strada sono tutti e tre suoi però secondo me l'opera galleggiante insomma un ottimo risultato da recuperare qui c'è un altro libro di george sonder su una raccolta di articoli servizi inchieste il megafono spento accanto abbiamo di jennifer egan il tempo è un bastardo comprato non ancora letto da leggere anche il cielo e dei violenti che ho ricevuto il regalo da claudia di lisleggia lisviaggia questo natale questo lo vorrei leggere veramente la figlia dell'ottimista di welty registro di classe di onofri bellissima l'antistoria del risorgimento di bianciardi che racconta a modo suo il risorgimento italiano due raccolte di racconti stupende di saunders pastorali a 10 dicembre tutti acclamano 10 dicembre ma io preferisco pastorali a poi abbiamo due libri che non sono proprio dei romanzi ma sono delle altre cose un saggio sulla crisi della gioventù diciamo di oggi ma più che della gioventù della generazione dei trentenni quindi proprio miei coetanei quando l'ho comprato teoria della classe disagiata si chiama di ventura mentre di ghidotti il pieno di felicità è un libro una sorta di resoconto di un'esperienza di vita di una dottoranda che cerca di affermarsi diciamo nella vita e nella società ma con tutte le difficoltà che conosciamo quindi sono anche abbastanza affini come tematica se vogliamo ma non come stile come finalità sono diversi l'altro libro di yeats a cui vi accennavo prima è revolutionary road questo è il più famoso libro di yeats ma ancora una volta come vi dicevo io preferisco easter parade revolutionary road non è il mio preferito penso che sia una questione di gusto l'ultima leggenda di caino è un libro di un amuno scrittore spagnolo conosciuto per altri volumi forse di più per nebbia più che altro ma questo io l'ho trovato molto bello è un ritelling della storia di caino abbelle per cui io ho un particolare debole mi piacciono molto i ritelling delle storie bibliche non di altre non di tanto di altre cose ma delle storie bibliche sì amapolas è una raccolta di racconti tema lgbt edita dalla casa editrice alessandro polidoro editore di eugenia rico la morte bianca lei una scrittrice spagnola questo libro parla della morte del suo fratello giovanissimo del suo fratello come sto parlando che lingua sto parlando scusate di suo fratello ma poi martella serrano l'albergo delle donne tristi chi roga con anaconda passiamo al lato accanto qui sopra ci sono i miei volumi del dizionario buon piani delle opere dei personaggi con accanto il nostro malloppone di joyce e ulisse perché perché questo lato della libreria è tutto dedicato ai classici quindi case editrici varie ma classici e qui andiamo veramente rapidamente qui ci sono dei libri di fitzgerald raccolti di racconti trollop natala thompson hall il saggio sul diavolo di shelly seneca la tranquillità dell'animo sun su l'arte della guerra l'amicizia di cicerone la favola di amore psiche di apuleio persuasione di jane austen il paradiso perduto di milton non so se vedete bene i titoli probabilmente vedete più me perché questi fanno un riflesso tremendo bellissimo io l'ho adorato perché ovviamente si parla ancora una volta di storie bibliche carmen e di merimè i malavoglia di verga e i promesi sposi di manzoni le operette morali di leopardi e il giorno e le odi di parini accanto abbiamo anche novelle di verga i racconti del terrore di po questa collezione che ho recuperato su ebay perché mi piaceva proprio perché vintage di fitzgerald tenere la notte il grande gatsby di qua dal paradiso belli e dannati l'unico che mi manca di questa serie da leggere belli e dannati e non ho letto i budenbrock di man e nemmeno di vargasiosa la zia julia e lo scribacchino che appunto mi manca per recuperare letto vargasiosa quest'anno mi è piaciuto tantissimo notre dame dei pari di victorio go fosca di tarchetti l'elogio della follia di erasmo da rotterdam i dolori del giovane werter di goethe gente di dublino di joyce l'amante di lady chatterly di lawrence cime tempestose di emily bronti poi cuore dei profondis di wild le opinioni di un clown di bolloni anche questo l'ho letto il bell'antonio di vitaliano brancati e poi ci sono questi due sono dei libri un po' biografici su mark twain e dumas e poi libri di inglese del liceo che sono finiti qui di letteratura inglese al piano di sotto ci sono questi libri della collana crisalide di mondadori molto bella ve l'ho fatta vedere tante volte mi piace tanto perché alla fine di questi volumi ci sono poi degli approfondimenti sulle trasposizioni cinematografiche anche artistiche musicali che sono state fatte dei vari romanzi e di questa serie ho il signore delle mosche che è questo qui e poi dracula 1984 faranetta 451 e frankenstein va bene questi letti tutti l'unico che non ho letto mi sa di questa fila o forse no ce n'è un altro si sono due che non ho letto di questa fila e anche è questo qui ritorno a bright shed di evelyn vaux frammenti della vita offesa di palmier lettera al padre di kafka la boutique del mistero di dinobuzzati racconti poi qui abbiamo un po di bufalino grande amore del mio cuore della mia vita con qui però qua argo il ceco e poi i due preferiti due che preferisco le menzogne della notte diceria dell'untore un bellissimo novembre di ercole patti vi ho fatto un classico doppio in cui vi parlavo di questo e degli uccelli di vesas tonio kröger di mann la mascherata di alberto moravia il procuratore della giudea di anatole france vincitore del nobel qui ci sono dei librettini della mattioli di dickens perdersi a londra fitzgerald vivere con 36 mila dollari all'anno babilonia rivisitata due racconti di fitzgerald e preparare un fuoco di jack london che io adoro questo è un racconto che consiglio sempre a tutti anche se mi hanno detto che questa edizione della mattioli 1885 non è più facilmente reperibile mi dispiace qua ci sono dei è una scatola che contiene dei racconti sono otto volumi otto grandi scrittori com'editi carta canta editore sono dei racconti singoli che io ho preso all'interno di questa box ve ne faccio vedere uno tirandolo fuori per esempio così abbiamo fervantes con la storia di lisandro sono molto molto carini lo strano caso del dottor jekyll e mr hyde l'amore ai tempi del colera il camera con vista di forster l'immortalità di cundera questo è l'altro che devo leggere perché ancora questo non l'ho letto e poi l'isola di arturo di elza morante questo è marco valdo di italo calvino uno nessuno centomila di pirandello susanna tamaro con va dove ti porta il cuore che secondo me non dovrebbe stare insieme agli altri classici però l'ho messo qua per per la collana il giorno della civetta di sciascia uts di ciotwin bellissimo poco conosciuto ma molto bello questo romanzo anche su questo ho fatto un classic haul che trovate nella playlist dei classic haul e poi sempre luigi pirandello con il fumattia pascal accanto la metamorfosi di kafka e altri racconti il rosso e il nero di standal per coloro che mi seguono da più tempo sappiate che finalmente sono riuscita a togliere il bollino da queste edizioni grazie anche ai vostri preziosi consigli il decameron di boccaccio poi abbiamo di natalia ginsburg le piccole virtù virginia wolf qualcosina una stanza tutta per sé la signora dalloway questo è leggere a caso e scene di londra bellissima una descrizione di londra fatta da virginia wolf io posso morire per queste cose grazia dell'edda mia adorata grazia dell'edda con canne al vento un'edizione per ragazzi di il ritratto di dorian gray è l'edizione per adulti classico del ritratto di dorian gray con gli occhi chiusi di tozzi ah sapete che devo leggere anche questo quindi sono tre di questa lista che devo di questa fila che devo leggere e poi una giornata di van denisovic di solzienicin andiamo quindi al piano sotto beh questa è la bomboniera del matrimonio mio e di mio marito abbiamo fatto un libretto abbiamo messo dentro dei testi di poesie e di canzoni che abbiamo scelto noi l'abbiamo fatto rilegare e questa è stata la nostra bomboniera rimasta qua dentro c'è anche l'invito al nostro matrimonio sì era un biglietto teatrale perché noi ci siamo sposati dentro un teatro quali sono i classici che abbiamo qui serie mammut e mini mammut grim con tutte le fiabe anna cariani night holstoy la coscienza di zeno madame bovary delito castigo liver twist piccolo mondo antico di fogazzaro questo ho provato a leggerlo un'infinità di volte ma io e fogazzaro non andiamo d'accordo il maestre margherita di bulgakov il piacere di gabrile d'annunzio me lo chiedete sempre io vi dico in generale con questi mi sono trovata bene non ho riscontrato particolari difficoltà nella traduzione ovviamente con il piacere il problema non si pone perché scritto in italiano così come la coscienza di zeno con gli altri non ho avuto particolari difficoltà praticamente in italiano si chiama il grillo del focolare ecco non mi stava venendo edizione inglese del grillo del focolare di Dickens che sta qui qui sempre in inglese di Nathaniel Hawthorne la lettera scarlatta the scarlet letter e l'ultimo amico poi di Dickens il canto di natale e Christmas carol è accanto appunto il grillo del focolare della casa editrice Caravaggio ci sono anche papà gamba lunga letto di recente ve ne ho parlato in un classic hall e pollianna che invece vorrei leggere non l'ho ancora letto qui una serie di altre cose una questione privata di Beppe Fenoglio la ragazza di Buben questi due li conoscete li abbiamo visti di recente perché li abbiamo letti insieme con il gruppo di lettura nel mese di aprile la fattoria degli animali di Orwell questa è un'edizione che ho trovato da poco l'ho comprata di recente perché ha il testo a fronte quindi l'ho trovata interessante le mie prigioni di Silvio Pellico qui di Dumas figlio la signora delle camelie anche questo dovreste conoscerlo ne abbiamo parlato da poco David Copperfield grande amore della mia vita io Dickens se lo adoro il Don Quixote di Ferbantes i racconti di Pietroburgo di Gogol Jane Austen con ragione e sentimento i fiori del male di Baudelaire il Candide di Voltaire Whitman foglia d'erba grande raccolta di poesie la leggenda del santo bevitore di Joseph Roth di cui vi avevo fatto vedere prima quell'altro libro della Delphi e Conversazione in Sicilia di Vittorini poco usato questo devo dire poco usato non so se si vede altro libriccino che tengo qui davanti edizione Caravaggio che pubblica questi gioiellini sono dei classici questo è un racconto imbustato con delle illustrazioni recuperato da Catherine Mansfield per finire questo scaffale abbiamo La montagna incantata di Thomas Mann volume 1 e 2 Una vita londinese di Harry James Ricordi di Londra e orgoglio e pregiudizio di Jane Austen altra edizione molto molto vissuta vintage ma io la amo particolarmente ah sì vabbè qui ci siamo io e mio marito che facciamo i buffoni ad un compleanno ok andiamo sotto fine dei classici ragazzi qui abbiamo i feltrinelli quindi punto in comune di questo scaffale casa editrice allora cosa abbiamo qui Daniel Pennac il caso Malossenne che è l'ultimo della serie Malossenne che vedete fra poco Mio fratello di Daniel Pennac questo è tutto Pennac tutta la serie di Pennac fino a Come un romanzo che poi è un libro che parla di lettura i famosi diritti del lettore sono qui dentro Stefano Benni la compagnia di Celestini Stefano Benni è uno scrittore che piace a mio marito non a me e quindi ci sono un po' di cose sue così come Harry De Luca che a me sì non dispiace però lo legge più mio marito qui abbiamo Hollywood Hollywood di Charles Bukowski unico libro che sono riuscita a finire ad apprezzare di Charles Bukowski perché per il resto lui non mi piace Racconti africani Doris Lessing Caino di Saramago bellissimo Ulman l'amico ritrovato questo è abbastanza famoso gli altri sono disposti poi in ordine alfabetico questi no cioè li ho messi insieme ma perché sono più bassi rispetto agli altri Feltrinelli purtroppo di Feltrinelli ce ne sono 200.000 edizioni e quindi non hanno tutti la stessa altezza qui ci sono due libri di Isabella Yende L'amante giapponese e La figlia della fortuna Baricco con 900 non so perché Baricco sia ancora nelle mie libreria penso che volerà via presto Giorgio Bassani Gli occhiali d'oro è il giardino dei Finzi Contini ho preferito Gli occhiali d'oro qui ci sono i Benni appunto che vi dicevo poco fa Jonathan Cole La casa del sonno letto alcuni anni fa mi era piaciuto tantissimo lo vorrei rileggere ora che è passato un po' di tempo Gli Henry De Luca di Mio Marito In nome della madre questo lo letto anch'io in realtà molto bello La natura esposta questo no è suo Di Dickens Tempi difficili insomma Dickens è un classico come questo è un feltrinelli va bene un po' a cavallo la cosa e quindi l'ho messo qui Paolo Di Paolo Mandami Tanta Vita Il Profeta di Libran bellissimo Il Buio Oltre la Siepe e Va Metti Una Sentinella di Harper Lee non so cosa ne pensate di questi libri a me piacciono tutti e due c'è chi ha rinnegato completamente il secondo Va Metti Una Sentinella secondo me invece funzionano proprio insieme mi piace il fatto che ci sia un dopo rispetto alla storia di Scout originale Un Ragazzo Normale di Marone non male per essere un romanzo italiano Mopassant con Bellamy Atti o Sceni Il Luogo Privato di Mistiroli altro libro che mi è piaciuto Il Ragazzi della Via Palla di Molnar Il Monte del Cattivo Consiglio sono tre racconti di Amosozzo ma questi non li ho ancora letti C'è Città di Saramago bellissimo Nel Paese della Persuasione di George Saunders anche qui abbiamo diversi racconti L'Arte della Guerra di Sun Tzu di cui vedete ho una doppia versione Bellissimo Sostiene Pereira che è uno dei miei romanzi del cuore Il Gattopardo di Tomasi Lampedusa altri libertini di Tondelli Diario di Eva di Mark Twain altro grande grandissimo libro è il capolavoro secondo me di Kurt Vonnegut Mattatoio numero 5 una follia letteraria ma pazzesco fantastico Gli Anni di Virginia Woolf un'altra cosa di Stefano Benni e poi dieci autori raccontano sono dieci racconti di autori feltrinelli Il re il cuoco e il buffone di Kelman sarebbe Till praticamente libro di cui ho parlato l'anno scorso questo è sulla figura del giullare Till recuperatelo pure questo è un bellissimo quadro storico dell'epoca della guerra dei trent'anni e i racconti di Tomasi di Lampedusa per finire ok scendiamo al piano sotto ma qui davvero molto molto velocemente queste sono raccolte di poesie sono vari poeti questi uscivano in edicola diverso tempo fa accanto c'è Iliott i canti di Leopardi il canzoniere di Saba ancora Iliott con il libro dei gatti tutto fare che praticamente contiene i testi del musical Cats musicato poi da Weber ci sono proverbi siciliani sulle donne e sull'amore sonetti di Shakespeare due raccolte di poesie del mio amico e bravissimo poeta Daniele Giustolisi se poi dal buio uscisse il sole e il più recente se scendevi per strada è di Tocarta Canta Milk and Tony di Rupi Kaur stupendo fra l'altro in lettura in questo momento homebody ce l'ho di là ma Rupi Kaur è una scrittrice da leggere assolutamente Romeo e Giulietta di Shakespeare Pablo Neruda i versi del Capitano ancora Pablo Neruda qui c'è l'antologia di Spoon River di Master insomma sono tutti un po' libri da avere in casa una selezione di poesie della Dickinson non mi fa impazzire questa edizione in realtà sono poche non mi piace nemmeno la scelta però me l'hanno regalata comunque la tengo poi Pascoli qui abbiamo una raccolta di poesie d'amore i sonetti d'amore di Shakespeare il canzoniere di Petrarca e tutte le poesie di Eugenio Montale qui c'è la serie che mi è stata inviata da John MacDillan con il bizzarrismo e qui vabbè un po' di cose della scuola un po' di cose di scuola a parte sette anni di Sodalizio con Giacomo Leopardi di Ranieri che ho usato anche per fare il video su Giacomo Leopardi non era una brava persona poi questi sono degli adattamenti di romanzi per ragazzi che mi mandano gli editori per il lavoro bene cari credo che sia passata più di mezz'ora sicuramente ancora abbiamo fatto soltanto questi due primi pezzi quindi passiamo al lato accanto qui abbiamo i fazzi la famiglia Fang Stoner anima libro molto controverso Olive Kittridge di Elizabeth Trout se vi è piaciuto Stoner leggete anche Elizabeth Trout lo schiavista di Paul Bitti un esperimento di cui si era parlato qualche tempo fa era stato nominato a diversi premi parla di un uomo che un uomo nero che si fa uno schiavo bianco la figlia femmina di Anna Giuricovich dato notti al circo di Angela Carter questo non l'ho ancora letto e non ho letto nemmeno quello accanto storia della nostra scomparsa che parla delle violenze perpetrate a Singapore durante la seconda guerra mondiale la caduta delle consonanti intervocaliche di Christova Otezza questo ve ne ho parlato in un vecchio indie books dedicato a Fazzi la felicità domestica di Tolstoi l'abbiamo letto l'anno scorso ai sopravvissuti spareremo ancora idem il grande me di Anna Giuricovich dato mi è piaciuto molto 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 meno rispetto alla figlia femmina che reputo decisamente migliore e i figli dopo di loro di Mathieu questo romanzo francese ha vinto il premio concours del 2018 si parla di relazioni fra adolescenti ma è un altro che mi manca così come la città senza cielo definito un 1984 francese ve l'ho fatto vedere tante volte ancora non è arrivato il suo momento ma arriverà forse vi sto facendo venire il mal di mare cerco di stare più ferma questo ripianino qui comprende queste edizioni che erano uscite in edicola qualche tempo fa ne ho recuperate solo alcune il grande Gatsby di cui ho anche l'altra copia vintage il ritratto di signora di Henry James Jane Eyre di Charlotte Bronte grandi speranze di Dickens Herman Melville con Moby Dick Kafka e il processo le avventure di Tom Sawyer di Twain e il marchese di Roccaverdina di Luigi Capuana qui accanto ci sono dei Calvino i nostri antenati perché leggere i classici raccolta di articoli e saggi le lezioni americane i racconti di Italo Calvino e poi il mio preferito di sempre di Italo Calvino che è e resterà penso per sempre se è una notte d'inverno un viaggiatore anche qui ci sono dei classici però in edizioni belle belle esteticamente queste sono sicura che le conosciate perché le bramiamo tutti e tutte i racconti del mistero di Edgar Allan Poe il maestro e margherita di Bulgakov che ho anche nell'altra edizione ma alcuni ce li ho doppi canto di Natale Dickens ce l'ho pure così David Copperfield vedete doppia edizione questi me li ha regalati mio marito questo Natale ma perché sa che mi piacciono le edizioni Alice nel paese delle meraviglie le favole di Esopolo schiaccianoci e la ballata del vecchio marinaio di Samuel Coleridge questi insomma sono tutti burdeluxe belli da vedere un po' costosi ma sicuramente rendono più bella la libreria edizioni EU la traversata di Philippe Lanzon grandissimo grandissimo libro non fiction racconta delle vicissitudini di questo giornalista che è sopravvissuto all'attentato alla rivista Charlie Hebdo le streghe di Lenzavacca e di Simona Luiacono e poi si scioglie di Liz Spitt che è una specie di thriller genere che io di solito non leggo ma devo dire che questo mi è rimasto particolarmente impresso e lo voglio tenere in casa andiamo quindi qui al ripianino sotto abbiamo Il cielo in gabbia di Christine Leone il libro che ha ispirato il film Jojo Rabbit per Elisa di Magda Zabò edito casa editrice Anfora La mia Londra di Simonetta Agnellorbi qui insomma è evidente il fatto che questi tre libri non sapessi dove andarli a mettere e li ho messi qua perché poi tutti i resti è buon piani con il mio amato amatissimo Steinbeck Furore La Valle dell'Eden Uomini e Topi io continuo a sostenere che il più bello per me sia La Valle dell'Eden ma comunque qualsiasi cosa scrive Steinbeck è oro La Peste di Camus Irene Mirosti Sweet Francese Peccati Gloriosi di Lisa McInerney I Vagabondi di Olga Tocarciuk vincitrice del Nobel questo libro è stupendo qualcosa di pazzesco ci insegna che tutti dovremmo imparare a scrivere così io ogni volta mi dico devo imparare da lei da lei a scrivere perché lei è strepitosa Fato e Furia di Lauren Groff se n'era parlato questo io l'ho recuperato a poco da libbraccio ma non l'ho ancora letto e qua sotto qui ci sono un po' di cose illustrate c'è un Dracula di Topolino un po' di cose divertenti poi bellissimo questo è il trattato di anatomia emozionale è di Toperuzzo andatevelo a cercare guardate è una cosa stupenda non ve lo posso nemmeno descrivere io di che cosa si tratta parla di emozioni parla di modi di dire attraverso quello che rappresentano per noi per il corpo per l'emotività è pazzesco ragazzi non ve lo so descrivere diversamente Cicala di Shuntown poi qui c'è La Fenice e la Tortora di Shakespeare con il testo a fronte se non mi sbaglio sì L'Oputen questo libro illustrato accanto ancora ai Passages Alessandro Celani edito Aguaplano bellissimo libro illustrato qui il piccolo teatro di Rebecca ma questi credetemi sono da guardare perché così non si capisce quanto sono belli questa è una biografia di Kafka che ho comprato al museo Kafka di Praga Hemingway l'uomo e il mito librotti che propone Mondadori due libri della casa di Trichop sono delle biografie illustrate io ho Virginia Woolf e Audrey Hepburn sono molto belli molto belli entrambi poi questo è sarebbe Lo straniero di Camus The Stranger questa è un'edizione a fumetti adattata da Jacques Ferrandet e basata appunto sul romanzo di Camus ma ce l'ho in inglese questo è un gioco per ricordare le capitali d'Italia ovviamente è una cosa che mi serve per lavorare e poi sono tornate racconti di mestruazione e altri tabù a cura di Serena Majorana sotto tanto per curiosità vi dico che sono ho le copie non vendute dei libri che io ho scritto o pubblicato qui c'è Blind Il sogno e la visione di cui vi ho fatto l'anno scorso un'audiolettura completa su questo canale e poi una raccolta di poesie poeti del nuovo millennio a confronto uscite da poco andiamo accanto a questo ripianino voi lo vedete di solito sopra la mia testa cioè non lo vedete perché è esattamente sopra questa postazione qui che è quella dove mi colloco io quando faccio i video in questo ripiano io tengo una serie di libri cosiddetto autoaiuto ma io non mi piace definirli in questa maniera diciamo più spiritualità preferisco intenderli in questo modo ci sono alcuni libri che per me sono stati molto importanti come La legge dell'attrazione che per me diciamo un mantra è fondamentale libri di grande ispirazione come Cosa ti manca per essere felice di Simone Azzori L'arte della semplicità di Dominique Loro L'arte di far accadere le cose di Mike Dooley e quest'altro Istruzioni mancanti sulla vita di Gio Vitale questi sono tutti i libri che hanno avuto un grandissimo impatto sulla mia vita qui sotto dove ci sono io di solito a fare i video c'è dietro questo libro che ho ricevuto in regalo ed è un libro illustrato non entra nemmeno tutto guardate di quante grande ed è Gli amanti farfalla con l'illustrazione di Benjamin Lacombe che è un illustratore famoso fa delle cose stupende non devo essere certo io a dirvelo diamo un salutino a Tokins ciao e qui ci sono questi librettini che ho comprato a Londra sono della Running Press in pratica sono delle raccolte di brevissimi riassunti di tutte le opere di autori molto famosi questo è il libro che comprende le opere delle sorelle Bronti poi ho Dickens Jane Austen Mark Twain e Shakespeare chiaramente non servono per studiare o per altro ma sono belli da vedere sono delle chicche deliziose oh qui sotto io tengo un po' di libri che parlano di libri nonché altre cose che al solito non so dove mettere perché avrete capito che io sono ordinata cubi quanto basta poi dopo un po' subentra invece lo sghiribizzo della dell'entropia allora qui abbiamo di Demetrio Paolin non fate troppi pettegolezzi sono i resoconti letterali delle vite di quattro scrittori italiani di Marco ma mi confondo sempre col cognome di questo scrittore Rossari Rossari mi sento anche in colpa perché io odio sbagliare i cognomi italiani comunque questo è un delizioso piccolo dizionario delle malattie letterarie americana di Briasco l'edizione la prima edizione ho riuscita quella nuova che vorrei recuperare però questa me la tengo anche perché ce l'ho autografata sulla lettura e sui libri di Schopenhauer i grandi classici riveduti e scorretti poi Guida Tascabile per Maniaci dei Libri anche questa è l'edizione vecchia non ho quella nuova che mi piacerebbe avere ma insomma i soldi sono quelli che sono non sperate di liberarvi dei libri conversazione fra carriere e eco Bookshelts questo è un libro bellissimo guardate se avete degli amici amanti di libri o anche voi stessi volete fare un regalo che li sorprenda questo libro comprende una serie di fotografie di librerie strane particolari idee di design e di arredamento i romanzi di Hemingway questa è l'edizione dei meridiani mondatori mondo della Lonely Planet quando voglia di fare un viaggio e scoppia una pandemia apro una di queste pagine e mi sembra di stare un po' meglio andiamo sotto qua sotto c'è la Infographic Guide to Literature questa comprata da eh non c'è più mi sa questa libreria comunque una vecchia libreria di Londra che aveva tutte queste cose curiose ma mi pare che abbia chiuso Pascoli Maledetto usato per il recente Pascoli non era una brava persona il grande libro della letteratura questo ce l'ho in inglese non in italiano curarsi con i libri è un bel librone che dà dei consigli su come usare la biblioterapia vivere per scrivere interviste a grandi scrittori e scrittrici scusate mi è ricominciato il Parkinson Victoriana e Guida al grottesco sono due libri della casa editrice Odoia ottima casa editrice per chi vuole approfondire determinate tematiche di argomento letterario di Federico García mamma mia mi sono mi sono appiccicata la lingua di García Lorca e poi libri ancora libri a cura di Laura Miller l'Atlante dei luoghi letterari e poi qui ci sono due fra i miei libri preferiti in assoluto di questa libreria le efemeridi di Cesare Catà ci racconta le vite di 27 grandi scrittori non come faccio io in modo ironico in modo molto molto serio e devo dire anche molto commovente è poesia pura poesia quella che scrive Cesare Catà Trans di Pauls no Pauls scusate Alan Pauls lui scrive questa autobiografia di un lettore che vi farà amare ancora di più il mondo della lettura è un libro bellissimo i libri che ci aiutano a vivere felici comprato un secolo fa veramente non mi ricordo quasi più i 50 libri che hanno cambiato il mondo di Taylor qui sotto ci sono un po' di rimasugli di gioventù di passioni di gioventù 10 piccoli indiani di Agatha Christie Stephen King con Misery edizione vecchissima a cui sono però molto affezionata il piccolo libraio di Arkhangelsk di Simenon Alice Sebold con Amabili Resti e Un cadavere di troppo di Alice Peters lei scriveva dei gialli ambientati nel medioevo e quando avevo una quindicina da anni 14 anni così mi piacevano tanto ne avevo parecchi poi insomma li ho dati via mi sono conservata solo questo e altra passione di gioventù era Paolo Coelio di cui avevo praticamente tutto quello che aveva scritto ma ho conservato soltanto quelli che per me sono stati più significativi in particolare il mio preferito di sempre è sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto infine andiamo qua sotto aspettate perché io tengo un po' di fogli per gli appunti qui ho dimenticato di levarli allora qui sotto ci sono ancora dei libri a tema books on books libri che parlano di libri il libro dei personaggi letterari di Fabio Stassi Holden & Company di Luca Pantarotto edito Aguaplano con queste bellissime edizioni che erano fatte in questa maniera vite che sono la tua il bello dei romanzi in 27 storie di Paolo Di Paolo un altro di quei libri proprio di cui innamorarsi i libri Paolo Di Paolo sa raccontare le storie i libri in una maniera davvero toccante bellissimo questo libro così come molto bello miniature di Bruno Berni che presenta diversi grandi romanzi delle letterature del nord Europa che tante volte non conosciamo io grazie a questo libro ho scoperto tante cose che ignoravo guida alla letteratura degli Stati Uniti della Odoia non è proprio completo questo libro mancano alcuni grandi scrittori però può essere insomma un po' di orientamento se state cercando dei titoli che possano aiutarvi un po' ad orientarvi nella letteratura americana io questo ve lo ve lo consiglio ma insieme a questo qui ad Americana di Luca Briasco di cui vi raccomando di prendere l'edizione Nuova Giornata e non la mia che ormai è un po' datata qui accanto brevi note sull'arte e il modo di riordinare i propri libri di George Perec e poi ci sono i pacchetti dell'edizione delle edizioni l'Orma impacchettati così dentro ci sono delle raccolte di lettere e io ne ho diversi perché mi piacciono veramente tanto li trovo graziosissimi Marie Curie Sherlock Bronte Mary Shelley la wolf la wolf la wolf cos'è un cane purella leopardi Dickinson e poi qui ragazzi qui ci sono praticamente tutti i miei cd della Ammons prima di abbonarmi a Oudible compravo i cd li ascoltavo in macchina quindi sono rimasti tutti sto cominciando a pensare che dividerò questo bookshelf tour perché credo che diventereste saturi se ve lo proponessi tutto in una volta quindi proviamo a finire questo scaffale magari poi il resto ve lo lascio per una seconda puntata qui ci sono dei libri che ho messo vicini per boh l'idea originaria era per colore infatti inizialmente erano tutti con le copertine bianche o prevalentemente bianche poi è subentrata anche la questione case editrice quindi abbiamo fatto un po' di di mash up allora abbiamo la stanza di Carlson edito ISBN editore ve ne ho parlato di recente una distopia pazzesca le nostre luci sempre ISBN editore Dio odia il Giappone di Douglas Copeland a me piace questo scrittore lo trovo pungente pungente al punto giusto mi piace proprio accanto la scuola dei disoccupati sempre ISBN editore ve ne ho parlato di recente io sono febbraio sempre ISBN editore Krall nozioni di base senza ombra di dubbi il libro più bello che io abbia letto quest'anno una raccolta di prose poetiche che ci insegnano a riguardare gli oggetti del quotidiano attraverso occhi nuovi il pane perduto di edit brook candidato al premio strega di quest'anno ve ne ho parlato di recente l'ho messo qui perché della casa editrice la nave di Teseo così come la libertà di Benocri che è un libro bellissimo se ne è parlato molto poco ma è un libro che io vi vi consiglio caldamente se volete leggere qualcosa che scuota nel profondo le vostre anime le nostre ore felici di Yi Jung Gong letteratura coreana primo e unico libro che io abbia letto di letteratura coreana molto particolare molto particolare diverso da quello che avevo letto finora qualcosa della Lin Dao una poesia in tasca di Fafio Linfe poi qui abbiamo vita e morte di Yukio Mishima grande altro grande amore della mia vita Mishima una biografia bellissima di Rudolf Nureyev mi è piaciuta tantissimo molto bello anche il Dottor Glass di Söderberg e poi le lettere a un giovane danzatore scritte da Bejar grande coreografo che io ho apprezzato tanto ho ballato le sue coreografie insomma amato veramente molto di Daniele Germani come eliminare la polvere e altri brutti pensieri un esempio di buona letteratura italiana così come l'ora del mondo di Matteo Meschiari ottimo esperimento letterario gli occhi degli alberi e la visione delle nuvole di Gagliardo è Tappari qui siamo sempre H-editore così come Stefano Corbetta con Sogno Bianco Sonno scusate Sonno Bianco due libri nottetempo Permafrost di Eva Baltasar molto particolare anche qui tematica LGBT ma si parla di una scrittura molto poetica Labirinto di Sermez questo non l'ho ancora letto parla di un uomo che ha perso la memoria Chi è partito e chi è rimasto Edito Safarà questo è un romanzo surreale di Barbara Cummins al piano sotto ci sono no dai più o meno qualche criterio c'è c'è più o meno più o meno abbiamo Margaret Atwood con il ritorno con il racconto dell'ancella sto facendo un sacco di strafalcioni io oggi però va bene perché mi piace l'imperfezione umana Acqua agli elefanti di Sarah Gruen La simmetria dei desideri di Escolnevò Gelide scene d'inverno di Embitti e Alan Sillito con la solitudine del Maratoneta questi sono tutti Beat L'amante di Wittgenstein particolarissimo flusso di coscienza distopia di David Markson poi ci sono dei Burr Dio di illusione di Donna Tart mamma mia che grande scrittrice che è Donna Tart Pace separata di John Knowles che ho letto grazie al suggerimento di una di voi di Michael Chabon o Shabon oh mamma come si pronuncia il nome di questo scrittore dovrebbe essere americano quindi Shabon sapete che non lo so mi dovrei informare le fantastiche avventure di Cavaliere Clay se ne era parlato qualche anno fa io lo devo ancora leggere così come il Cardellino di Donna Tart che sarà un gran capolavoro ma mi spaventa da morire Tiffany McDaniel di lei vi ho parlato se ne è parlato tanto l'estate che ha sciolto ogni cosa è il caos da cui veniamo due libri devastanti soprattutto il caos da cui veniamo cioè questo veramente devastante ma assai Clementine di Robert Nathan qui invece siamo nell'ambito del realismo magico molto più delicato tutti e tre sono comunque Atlantide Edizioni Veronica Raimon con Meaden un esempio di letteratura italiana comunque nuova innovativa non mi ha fatto impazzire però comunque l'ho trovato piacevole come libro da leggere al piano sotto ci sono degli Einaudi qualche Einaudi super coralli il viaggio l'incredibile viaggio del Fachiro che restò chiuso in un armadio che è un libro divertente che mi ha sorpreso ma fa anche molto riflettere sulle questioni legate alle migrazioni Svegliami a mezzanotte di Fuani Marino questo è un libro è un memoir racconta l'esperienza di vita di questa donna che ha tentato il suicidio poco tempo dopo essere diventata madre ma si parla molto di instabilità mentale I racconti delle donne è una bella selezione di racconti scritti da autrici selezionati da Annalena Benini sono tutte scrittrici di altissimo altissimo livello Berta Isla di Marias che vi prometto lo leggo però lo voglio leggere in spagnolo ecco perché l'ho rimesso qui New York Stories raccolta di selezione di racconti un po' come i racconti delle donne tutti ambientati in New York l'irlandese della Baker si parla di Beckett il protagonista della storia Samuel Beckett resto qui di Balsano La donna dei capelli rossi di Pamuk un libro che ho adorato devo leggere assolutamente altro di Pamuk nel guscio di Ian McEwan e lo scarabeo di Ian McEwan lo scarabeo vabbè ragazzi bellissimo posso ridere da sola lo scarafaggio da dove è venuto lo scarabeo lo scarafaggio va bene Purity di Franzen ho provato a iniziarlo una decina di volte e non riesco mai ad andare avanti una raccolta di racconti di Englander di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank e poi quattro libri delle piccole donne della Alcott piano sotto che spero riusciate a vedere perché temo che sia un po' buio abbiamo intanto questo librettino Caravaggio di Enrico De Luca e Luca Maletta con il dado perché sono dei racconti e la scelta fra i racconti da leggere viene affidata al caso dietro ci sono un po' di cose Voland case editrice che a me piace tanto partiamo da qua questo è il Maxino Tomb ci sono cinque romanzi di Amelino Tomb qui dentro ma di Amelino Tomb c'è un po' di roba a me Amelino Tomb piace molto e si vede perché qui ci sono praticamente non dico quasi tutti li vorrei tutti i libri di Amelino Tomb me ne mancano però un bel po' qui c'è Gena dell'assassino Una forma di vita Il viaggio d'inverno Sete Riccardin Dal ciuffo Barba blu le catilinarie mercurio petroniglie acido solforico attentato uccidere il padre causa di forza maggiore un'intervista ad Amelino Tomb la bocca delle carpe qui dentro ce ne sono altri cinque insomma ce ne sono un po' devo recuperare l'ultimo uscito perché non l'ho ancora comprato ma lo prenderò sicuramente ad un certo punto qui sopra sempre Voland c'è Noi di Zamiatini in questa edizione ormai distrutta Noi è un grande classico della letteratura distopica non so perché non ne parli quasi nessuno ma è un libro antecedente a 1984 decisamente visionario questo invece è un libro della casa editrice Abe Editore che fa pure questi gioiellini ed è l'uomo che conservava il suo denaro in una scatola di trollop ancora Voland c'è Conforme alla gloria di Demetrio Paulin e Sala Professori di Orz poi qualcosa di Marcos Marcos la bambina che amava troppo i fiammiferi se ne è parlato in tanti modi di questo libro a me personalmente per certi versi è piaciuto per altri l'ho trovato un po' complesso Se ti abbraccio non aver paura di Pulvio Erbas ormai è un grande grande classico si parla di relazione padre figlio si parla di disabilità un altro esempio italiano che a me è piaciuto Tanta Rosa e Mezzora molto forte nel suo tema perché si parla di prostituzione e non solo però a me è piaciuta molto la scrittura La schiuma dei giorni di Boris Vian fuori per sempre i Doris Feminis sapete che l'ho letto non troppo tempo fa ma non mi ricordo di cosa parla cioè sempre non me lo ricordo proprio mi ha preso tanto questo libro devo dire mi è rimasto proprio impresso Il Minotauro di Urren Matti invece è un libro clamoroso bellissimo L'uomo Seme questo è un libro playground molto particolare già dalla copertina lo capirete si parla di un esperimento non è proprio un esperimento comunque una situazione che si è verificata in un villaggio in cui gli uomini sono andati tutti in guerra le donne sono rimaste da sole e fanno un patto se arriverà un uomo se lo contenderanno cioè se lo non contenderanno se lo divideranno lo condivideranno per il bene della della specie che deve andare avanti un libro della casa di Trice Xorma la donna che pensava di essere triste la danza dello scorpione di Akram Musallam qui siamo in letteratura stiamo parlando di letteratura araba di cui ho letto veramente poco devo assolutamente recuperare altro e comprendere il pensiero dei cani qui di Anela andiamo giù andiamo giù qui ci sono dei libri comprati da pochissimo perché questa era la promozione dei Buon Piani due libri 9,90€ e ho fatto una scorpacciata io ho preso la trilogia dei colori di Maxence Fairman Central Park Guillaume Mousseau che è un libro di Guillaume Mousseau scrive insomma dei thriller molto molto leggeri forse non si possono nemmeno definire thriller però sono abbastanza coinvolgenti e credo che siano dei buoni libri spezza letture più importanti più pesanti La Ciociara di Moravia Pian della Tortilla di Steinbeck La Caduta di Camus Il Minaturista questo è un romanzo storico di Jesse Burton o comunque di Ambientazione Storica grande grande libro di Harari 21 lezioni per il ventunesimo secolo Orologi Rossi di Lenny Zumas questo parla di maternità questo libro ve ne avevo parlato tempo fa l'avevo letto qualche anno fa ve l'avevo pure recensito poi l'ho scambiato l'ho portato al libro scambio e mio marito me l'ha regalato di nuovo perché mi è venuta voglia di rileggerlo non so se lo farò adesso in futuro però lo rivolevo in casa e qui ci sono altri due libri dell'ISBN Editore questo è Il Regno Diviso e Panopticon di Jenny Fagan e poi qui accanto vabbè c'è una statuetta è un libro di letteratura con un quaderno perché devo preparare se non cascano tutti i libri un prossimo non era una brava persona ok scendiamo giù scendiamo giù e qui c'è anche qualche altra cosa di letteratura fantasy o varia anche per ragazzi La nave di Teseo questo è il libro famoso con dentro tutte le le curiosità ve lo voglio far vedere perché magari non lo conoscete sì ci sono anche i miei piedi in primo piano aspettate ve lo voglio far vedere questo qui perché è una cosa particolare magari non lo conoscete tutti e dentro ci sono una serie di oggetti che aiutano nella lettura in pratica è come se fosse un libro preso in biblioteca con tutti gli appunti di chi lo ha letto ai lati quindi una parte è proprio stampata un'altra è scritta tutta in un altro modo è un libro molto molto particolare con tutti questi oggetti dentro molto particolare poi abbiamo un ponte per terabiti all'hobbit il signore degli anelli qui c'è cuore d'inchiostro di cornelia funche che non è cuore d'inchiostro questa è una di quelle cose folli che mi capitano ogni tanto fuori è cuore d'inchiostro dentro è il re dei ladri c'è un altro romanzo di cornelia funche è un errore di proprio di di impaginazione però siccome a me questi errori piacciono tanto me lo sono tenuto il cronache del mondo emerso di licia troisi questo è di mio marito di quando era ragazzo mio marito e qui abbiamo hunger games di susan collins danza sulla mia tomba di aiden chambers è una cosa di chiara gamberale che non so perché è ancora nella mia libreria e non se n'è andata bene cari io mi fermerei qui per oggi siamo arrivati praticamente a questo scaffale che è l'ultimo che vi ho fatto vedere questo qui sulla sulla sinistra e grazie per essere stati con me e i miei strafalcioni però è stato divertente perché è stato un po' come portarvi a casa mia mi sono sentita molto a mio agio vi garantisco che nelle prossime ore girerò il seguito e nei prossimi giorni pubblicherò anche quello così avrete il resto della libreria grazie ancora per essere stati con me e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti